Qua ci serve solo uno che ne capisce di computer e facciami i soldi. Cosa vuoi? Vogliamo aprire un'agenzia turistica di vacanze estreme. Ma non estreme normali, estreme assai. Offriamo rapimenti. Annoiato delle solite vacanze, vieni in Calabria e fatti la vive! Viagra Calabrese! Vorrei possederti come un'animale. Mantenere il glande fuori dall'acqua a modi isolato. Si può sapere chi cazzo avete rapito? Come chi? Pedro. Io vorremmo rapito e vedo sbagliato! Siete veramente degli idioti. Quando si fa una minchiata, si provvede a ripagare la minchiata. E' una minchiata non ripagata. Rimane un debito della minchia. Mr. Minchia! Te ne dici di un colpo in testa? O ne preferisci tu? Moriremo tutti. Cazzo vieni. Giù che è il muro! This is original sequestro Calabrese. Quanto devo chiederli? Chiedi un milione di lire. Die euro. Die euro dai, die euro. DiCaprio. DiCaprio. Sene.